Salve a tutti, io sono DroneGamer e bentornati su Spider-Man 2. Signori, oggi ci attende un epico scontro con Lizard, che diventa sempre più grande, e che a sua volta è braccato dai cacciatori. Preparatevi per una estenuante boss battle che causerà danni ingenti a tutta la città, mentre Peter perderà sempre di più la propria identità in favore di Venom. Buona visione! Signori, ho visto che la gente si triggera male perché Lon dovresti concentrarti di più sulla trama principale, non sulle quest secondarie. Certo, poi quando saremo troppo deboli perché non abbiamo accumulato abbastanza esperienza per level appare, sarà divertentissimo vedere in quel caso il TheLongamer che fa game over ogni 1,8 secondi. Nel frattempo abbiamo un'opportunità fotografica. Sì, ragazzoni, lo so, dobbiamo anche tornare. Non si sono spaventati. Dal caro, buon vecchio Peter. Credo che la signorina sia il soggetto. Perfetto, come se si saltava verso l'alto? Così. Pica. Servirebbe un intero reportage fotografico sulla musica di New York. Il suo impatto, la comunità che ha creato, la sua genialità. Non puoi catturare tutto il mondo. Ma questa non è male. Grazie, coso. Allora, come dicevo, prima di riprendere la missione principale, datemi un secondo, che ci dovrebbe essere un'altra missione di inseguimento dei droni. Ma che gentili mi hanno anche lasciato una chest con dei componenti tecnologici, che dovremmo vedere di spendere quanto prima. Anzi, datemi mezzo secondo. Uh, possiamo migliorare molto la tecnologia costumi, come ad esempio i danni, che possiamo portare al 130%. Mi piace quello che vedo. O perché no, al 140%. O perché no? Non esageriamo. Non esageriamo. Vediamo di aumentare anche l'energia, perché a me stanno a palculo a strisce, purtroppo. Portiamo quindi l'energia a 150. E siccome il telone non si accontenta, le gambe vitale. I colpi del lanciaragnatele a segno ripristinano una minima parte di energia. Oh, per i prossimi cosa volete? Gettoni roe. Si guardatevi una calmata. Perché onestamente quei cocchi di gettoni li sto finendo. Potenziamo la concentrazione. Incrementa del 10% la concentrazione ottenuta con le tecniche. Le eliminazioni furtive forniscono più il concentration. Ah, volevo la terza barra di concentrazione. Però ci richiedono i componenti tecnologici rari. Aspetta, aspetta che guardo un po' se abbiamo dei nuovi costumini per Miles. Oh mio Dio, il costume è forever, Wakanda forever. Sì, assolutamente sì. Peccato che mi utilizzi i componenti tecnologici rari, ma... Oh, questo passa al convento, purtroppo. Allora, fatti vedere, Miles. Sei bellissimo, molto Wakandoso, in effetti. Allora, com'è attivo la missione del drone? Scusate. Ah, ora ti ho visto, piccolo bastardello. Ti avevo nascosto proprio bene. Ma no, ma c'è anche tipo le unghiette. Ma è fatto proprio realistico sto costume, eh. Ecco l'elica è arrivata. Sì, ma stai calmino, ciccio. Ovviamente l'inseguimento sarà più difficile, eh. E l'altra volta... Per scoprire cosa sta seguendo. Oh, porco cane, oh, porco cane. Fatta. Non mi incendiare male. Ok, cerchiamo di evitare di farci danneggiare troppo. Stai calmino! Uh, 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 uh. Ok, non mi sono schiettato per miracolo. Siamo troppo in giri, ai palazzi. Statti fermo, bastardo. Appena 24%. C'è una fatica cagna. Oh, gatta in questo caso. È panterosa, insomma. Ci siamo capiti. L'ho ripigliato, l'ho ripigliato, l'ho ripigliato. Perfetto. Vai in scia, vai in scia, vai in scia, vai in scia. Oh. Per un secondo voto molto peggio. Ah, se ti danneggi. Sì, vabbè. Ma io non posso fare ste curve. So che c'è una vita secondaria che mi permette di farle più strette. Però, uh, chi è? Oh. Mi andasse dritto per 1,8 secondi. No, che deve provare. Perché deve fare il figliettone? Drone DM. Ok, ok. Mi piace. Mi piace tutta questa serie di rettilinei. In realtà le fiamme sono facili da evitare. Perché c'è un'intera porzione. Oddio, perché? L'ho un po' si ferma. Fa facendo un solo brutto, in effetti. Ci sono quasi. Ci sono quasi, 100%. Prendi lo volo, prendi lo volo, prendi lo volo. Non possiamo iniziare l'episodio in questo modo? Vediamo un po'. Oh, wow. Salve, signorina. Elaine Matun Jordan. Ok. Ok, vediamo di ottenere le ricompense. Aspè! Sono componenti tecnologici rari, quelli che vedo? Miles. Non avrei dovuto comprarti il costume. Me ne manca uno adesso, ma no. Sono troppo deluso. Sono talmente tanto deluso che devo assolutamente passare a Peter. Cambio di look. Peter è andato a cercare Connors a casa sua. Non promette bene. Ah, ok. Non ho mai sentito Spider-Man Noir ridere. Ma, obbio, dettagli. Penso che sia sempre eternamente depresso e tutte cose. Allora, vediamo di... Dovrei cambiare il costume anche per Peter. Ci penso bene. Vediamo se abbiamo qualcosa di nuovo e di bello da sblocchiare. Anzi no, datemi mezzo secondo. Paradossalmente devo ritornare da Miles. Questa la completiamo in 1,8 secondi. Così otteniamo quel gettone che ci serve. Ah, tutto molto interessante, ciccio. Tanto sarà tipo poi dietro l'angolo. Oh mio Dio, era veramente in culolandia? Era in parte della scritta Braxton stessa? Tre ore che giravo con un Peerline. Allora, mi sa che dobbiamo spostare il logo. Aha! Ok. Entra dentro. Et voilà! Oh marone. I laser! Ma come ci sono i laser? Senza avvertirmi dei laser. Ma che cocchio, zio? Ma sei completamente fuori di testa. Vengo tritato male male. Ho capito che devo rimanere in linea. Ah, corri, 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 corri. Che ansietudine però. Con una griglia bella lunga. Olè, ottimo. Poi da questa parte. Questo me lo piglio, questo me lo piglio. Sono ancora vivo, non si sa come. Vi faccio notare dov'è la cassaforte. Sì, è nel condotto di aerazione. Non dico nulla. Ah, a posto. Cosa non si fa per un po' di componenti tecnologici, Rari? Ok! Ora possiamo riprendere la nostra quest? Ah, che fatica di vivere. Mi sono anche acciccato malissimo. Whee! Ehi, zio! Perché hai scelto questo grattacielo? Conosci il colpo alla Braxton? Ah, no! Infatti, è stato il mio primo esordio come Proud. Primo lavoro con una squadra. Siamo entrati per rubare prototipi dalla divisione segreta della Braxton. Ma una tipa ci ha tradito. Chi? Non ho mai saputo il suo nome, ma era molto bravo. Una vera professionista. Felicia sicuramente. Per fare la ladra. Grazie di aver recuperato le scorte. Chi era la tizia che ha fregato zio Aaron? Non è da tutti. Miles, non esistono troppe ladre donne in questo universo di Spider-Man, porca la miseria. Quanto meno famose che vivano a New York e tutte cose. Allora, ritornando a noi, dicevamo, finalmente posso avere la terza barra di concentrazione. Ti ringrazio. L'unico costume nuovo per Peter è Spider-Punk. E no, non mi piace. A sto punto, Arachno Cavaliere. Lo voglio in versione Assassin's Creed. È troppo carino dal mio punto di vista. Deve essere il costume di Spider-Man, quello del Medioevo? Lo butto là? Ok, stavo andando a casa del Dr. Connors quando mi sono accorto che c'è un ragnetto da queste parti. Dove sei, piccolo stellino? Bambini, non fate caso all'assassino. Anzi, Spider-assassino che si aggira da queste parti. Ah, eccolo là. Prendi il bastardo. A posto. Uno Spider-Bot furtivo. Ok. Ce ne sono veramente un sacco, però, eh. Ed eccoci, arrivati alla casa del Dr. Connors. No, davvero, ragazzi? È troppo da Assassin's Creed. Sei bellissimo, Peter. Se è riuscito a riprendere il controllo, non sembrava... Aia. No, non ha dormito nel suo letto? Bella domanda. È sempre stato un uomo molto turbato, eh. Vediamo un po' cosa scopriamo. Ebbè. Non puoi biasimarla, onestamente, eh. Scoprire che tuo marito è un rettiliano può effettivamente far crollare un buon matrimonio. C'è nessuno? La stanza di suo figlio. Ma il bambino non c'è. È stato divorato da Lizard, probabilmente. No, no, la moglie ha preso anche il figlio e se n'è andata. Quasi sicuramente. Amava gli animali. Allora a papino gli piacerà veramente un sacco. Ok, proviamo ad andare... No, vuole andare al piano di sotto? Doppio lavabo. Ma solo uno è in uso. Peter, guarda quanto sei bello. Date che ne ha lavata, ciccio. Oh, cos'è stato? Oh, oh. Non mi dire che sono già arrivati, no? Come sarà qui? A quanto pare ha cercato di opporre resistenza. Su cosa stava lavorando? Però sì, ha lasciato ancora tutte le cose della sua famiglia. Buon salve. Carino. La canzone della giostrina. Perfetto, la cantavo anche in maniera molto intonata da bambino. E su, cos'è successo da queste parti? I segni sul pavimento non promettono bene. I meccanismi molecolari della ricombinazione genetica del dottor Michaels. Comportamento degli enzimi interessante. Servono altri reagenti per la struttura distaccata. Ma se sta a distaccare la voglia di vivere. Sì, gli servirebbe un laboratorio. Facciamo scommessina? C'ha il laboratorio nel seminterratto. Wow! Già. Probabilmente non è lo stesso Siro che ha utilizzato lui in origine. Presumo fosse una variazione più potente. Wow! Qua è tutto distrutto? Che è successo? La foto è furbina. Passato da qui, come fai ad essere ancora in piedi? Attiva il meccanismo. E dai, la cosa più stupida della vita. Eila. Oh! Niente numeri sui tasti. Sì, sembrano i tasti colorati che abbiamo visto sul gioco di suo figlio. E c'è il simbolo dell'allegra fattoria. Era... Pa... 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 Oh wow, al primo colpo! Ma sono un genio della musica, incredibile. Chi l'avrebbe mai detto? Sì, che c'è gli acufeni. Conor sadoro ai segreti. E i semi interrati anche. Dottore! Probabilmente il laboratorio proteggeva... Lui e la sua famiglia durante le sue crisi. Il sensore di movimento ha attivato le telecamere circa 30 minuti fa. E cosa? Ah, ma può ancora parlare? Voleva esaminarsi il sangue. Avanti, dottore. Resisti, coraggio. Aia. No. E vabbè. Wow. Ha avuto una mutazione. Avete visto che ha perso la pelle? E cos'è? Oh no, io devo affrontare quel coso? Peter? Chiamiamo Miles. Mi sembra la cosa migliore da fare. Capito che sei Venom Edition. E c'hai l'incazzatura nel corpo. Otto guarda. Oh oh. Il comitato di benvenuto è arrivato. Ciao ragazzi, che fate di bello? Wow. Entrata, Peter. Molto vicino. No, no, non fare follie. Peter, porca di per i per porca. Che poi la gente si spaventa. Ti lasciano le recensioni quelle brutte, brutte, brutte. Porca miseria. No, i figlioli. Wow. Aia. Ci sono fuori anche le creature che sennò fanno quei raggi strani che mi impeditono di utilizzare le abilità. Occhio. C'ho ai rotti maroni. C'ho la miseria. Ok, sono fuori anche quelli che sparano. Oh oh. E' tornato il comitato di benvenuto? Appena adesso c'ho tre barre, è vero? Me ne ero completamente dimenticato? Ah. Wow, 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 wow. Che succede? Chi è che mi spara? Ah. Mi hai fatto malissimo. Ci gioco più con te. Ci gioco. Oh 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 oh. Solo per dimostrare qualcosa. Mi hai fatto malissimo. Aspetta, aspetta, aspetta. Oh, un attimo. Ho detto un attimo. No, ve lo ho preso l'altro tizio. Ma che stracocchio. Che ha fatto? Poi altri avete problemi comunque, figlioli, eh? Io capisco Kraven, ma seguite tutte le boiate che vi rifila. Chi è che mi ha sparato la rete? Chi è che mi ha sparato la rete? Porca la miseria. Ok, vediamo che fa fuori i cugini. Ah, eccoti, eccoti. Vieni a giocare con lo zio Peter. Maledetto non ti palle. Ehi, no, 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 no. Ecco qua che ti... Ho una bella lezioncina. Ecco qua. I denti sono sopravvalutati, hai visto? Ok, è l'ultimo dei furbi. A posto. L'abbiamo risolta senza spargimento di sangue. La gente ci sta guardando, Peter. Bersaglio al mercato del pesce di Arden. Giustamente. Blizzard è oltre il fine. Oh, oh. Non arriverò in tempo. Come no? Oh, Miles è di nuovo rilevante per la trama, chi l'avrebbe mai detto? Ah, 800. Belle le trecce. E l'800 con vestito prismatico e collare alto. Ah, ok. Contrappone la storia nera e il futurismo nero. La vernice d'oro riflette meglio di persona. A Connie. Sì, ok. Sì, si vede, sì. Ah, è vero che lui non aveva visto la sua mostra, in effetti. Che succede? Che hai visto? Martin Lee in libertà? Sempre lui? E sai, ha ammazzato tipo mio padre. Lee è ancora libero. Penso che lei capisca, ciccio. Però non vuole che tu finisca nei guai. O che rischi la vita. Qualcuno ha bisogno anche di Miles. Mi domando chi. Baccio, baccio. Dai che è il momento giusto. Eccolo lì. Ma povera Eilie. Pete? Che cosa c'è? Il mercato. Sì, sì, arrivo. Scusami. Ti scrivo, ok? Ma poverina. È bellissimo. Il murale, dico. Grazie. Dai, Maria Giovanna 2, andrà tutto bene. Non te preoccupa, eh. Wiii! Partiamo all'avventura. Wakanda forever! Che Pete mi richiamasse. Alleluia. Ehi, come vanno le cose con Eilie? Brutto momento. Lizard è scappato. Servono i tuoi spioni volanti. Quel Lizard. E poi Eilie dice che è stata una pazzia cercare Martin Lee. Lo pensano tutti. Stiamo proteggendo. La vendetta non è... Io non voglio vendetta. Papà credeva nelle seconde occasioni. Ma non è questo il caso. Sono io a dover proteggere voi. Non il contrario. Ho capito. Ok, io sono quasi arrivato. Oddio. Ma Miles contro Lizard, questa nuova versione, ce la potrebbe fare grazie ai poteri Venom. Non dico di no, però... Ok, sono arrivato al mercato del pesce nel frattempo. Vediamo di scoprire qualcosa. Sembra vuoto. Meglio controllare. È stato... Come fanno a muoversi sopra la città? E nessuno si è accorto di nulla. Quanto pare ho compagnia. Ho capito che hanno tecnologie stealth, ma qui stiamo esagerando. Tutti fuori, presto. Via, via, via. Mi direi sono tanti. Usano i droni per seguire Lizard. Beh, potrei usarli anch'io. Occhio. Sono difese passive quelle. Sì, magari stiamo... Wow! Ok, starò lontano. Buona a sapersi. Ai droni non piacciono i Gabby. Ora lo sappiamo. Che spavento! Sì, allora c'è il dronino qua in parte. Andiamo a fare un bel kinder sorpresa. Ah, vociccio. Ah, a posto. Ok, abbiamo un altro drone da quella parte. No, che non voli! Siete maledetto, bloccalo. Uh, pensavo ci avrebbe individuato per un secondo. Quanta gente c'è? Perché non ho il radar purtroppo stavolta. Ok, vediamo di catturarne uno alla volta. Così pian pianino riempio anche le barrette della concentrazione. Chi è che mi vede? Chi è che mi vede? Fatevi cavacci vostri, porca la miseria. Signore? Lei è sicuro? Vai! Mi sa che c'è qualcuno ai piani alti, molto probabilmente, che potrebbe individu... Ah, ecco, tira, ecco, tira, ecco, tira, aspetta. Vai su, vai su, vai su, vai su. È sicuro? Credo di sì, me la rischio. Uh, gli ho disinstallato la colonna vertebrale. Qualcun altro mi stava individuando. Porca miseria. No! Dovevi far fuori... Ma porca la miseria. Ok, ok, non è andata come volevo, non importa, non importa, non importa. Signore! Allora! Colpito 86 volte! Che cocchio, signore! Siete venuti a giocare con il povero Miles? Perché si sentiva solo e l'hanno ignorato per 826 episodi? Ah! Oh! E ti piace se te lo faccio io? Eh, ok, io forse ti ho andato un po' più pesante. Ma insomma ci siamo capiti. Weee! Lallero, lalala! Boni? Boni, 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 boni! No! No, 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 no! Volete giocare con i miei droni? E basta! Ammetto, è più divertente combatterli così che affrontarli in stealth, insomma, ci siamo capiti. Ok! Buttalo di sotto, buttalo di sotto il rompipalle. Ah, posso? Chi è che manca ancora? Fate complimenti? Ci sono ragniatelle per tutti? Eh, sì, sì, tranquillo, tranquillo. Ora ti do io una ragione per non muoverti. Ah! Mio Dio, quanti cadaveri! Eh, non mi stanco mai di guardarti mentre vesti di brutto. Abbiamo il nostro drone! Forse il tuo costume può hackerare la scheda mare. Ok. Per fortuna che all'interno della struttura non c'era nessuno. Ciao, dronone. Sto collegando... Pronto! Ci hanno dato un ex. Ok. Riavvio l'altimetro e... Non mi dire che lo comandi a distanza, non ci credo... È vivo! Che ne dici? Beh, dico che è un gran bel drone. Ha 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 ha! Eeeh, un gran bel drone sulle tracce di Lizard. Grande! Che velocità! Deve essere andato di là. Ah! Sembra di guidare un garrotto! Piano, ciccio! No! Qui si mette male! Yankee, tutto ok? Direi di no. Eh sì! Ma questa strada è bloccata. Tranquillo. Questo luogo ha un aspetto molto inquietante, figlioli. Lizard? Yuhuu! Dove sei? Non mi fate i jumpscare Rossi. Perché se avete la mamma trota... Gesù! Oh, sento rumori orripilanti nell'oscurità. Miles? Accelera il passo? Torri, 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 torri. Ok, qua non devo andare. Uh! E' in giù tutto qua. Già. Non è opera di Genki. Dici? Porca miseria, ha devastato tutto? Ok, continuiamo a muoverci in questa direzione. Uh, sì. Andiamo a... Inizio! Porca miseria. Che serata sushi. Ma che serata sushi, cretino! Ok, Lonino. Lonino, stai calmo. E' solo un gigantesco rettile che tu potrebbe mai andare storto? Hai affrontato Ark per anni? Oh, no. Lo abbiamo trovato, vero? C'è troppa oscurità. Oddio, sopra di noi! Ti wakandizzo la nonna! E' la tua coda, occhio! Miles? Tutto intero? Dov'è? Dov'è? Corri, lo dobbiamo trovare. Presto, 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 presto. Era di sicuro lì. Ok. Wow! Quello è un pesce cane, uno squalo? C'è dietro la porta numero uno. No! Mi ha rotto lo squalo, ma che cocchio. Ok, facciamo che... Apriamo tutte le salatinesche. Va beh. Genki, che spavento! Ma sei scemo! Cosa? Dov'è rifinito? Non lo so, ho visto certe cose. Anch'io. Siamo... A trovare Lizard. E certo, sì. Ma il drone non l'ha localizzato. Ok, possiamo aprire altre salatinesche. Vai! E qua! Uuuuh! Lizard! Capisco dove. I dati del drone sono parecchio incomplete. Genki, resta dietro di me. Non devi dirmi. Oddio, perché sei preso numero tre? Scanciato. Aspetta. Ah! Ma ti scoppo sentimento! Eh! Che è sta roba? Ma siete scemi nel cervello? Ha fatto la muta di nuovo? Oh no! È solo la pelle. Quindi ora è... ...lo più grosso? Già. È affamato. Peter mi ha fatto cagare in mano? Ah, già che loro non si sono più rincontrati dopo il problema di Venom. Non male. È nuovo? L'edificio è pieno di cacciatori. Novità su Connors? Sì, Genki. Lo sta seguendo. Ehi, signor Parker! No, ma dai! Spider-Man. Idiota! Ma i dati sono incompleti. Forse posso aiutarvi. Ah, c'è un analizzatore? Scanner integrato. Ok. Utile. Wow! Questi dati spaccano! Ok, ho trovato qualcosa. Ehi, Genki! Con calma! Oh oh! Anche noi abbiamo trovato qualcosa. Neanche io. Io neanche ce l'ho, uno stomaco. Occhio! Wow! Zio Billy quanto è grosso! Oh no! Ora dobbiamo inseguire lui in città? Signor Lizard, si può fermare? Oh no! Aspettatemi, amici! Arrivo anch'io! Ma siamo troppo lenti? Miles, siamo decisamente troppo lenti? Ok, forse con le ragnatelle sono più veloce. Ah, che si è abbastanza più veloce. Ok, affranne uno, affranne uno. Weee! Salve signore! Lo fa di bello? Grazie, molto gentile. Fa il bagnetto? Mi hai sparato super in alto? Super emozionante! Nervi soldi, coso! E occhio a quei droni! Tranquillo! E rilevano come alleati. Ah, ok, ottimo. Dica! Mi ha piacere fare la sua conoscenza? Ok, continua. Aiuto, affranne un altro. Cacca miseria, siamo troppo in basso, Miles. Ok, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Belli, stendiamolo! Date una festa in yacht senza di me! Bastardi! Weee! Oh, oh! Oh, oh! Mi stanno buttando, mi stanno buttando! Caccia la miseria! Ok, freno un altro, freno un altro. Eh, ragazzi, che fate di bello? Oh, oh! Ci sono tanti, però. Quante veloci in acqua! Moriremo tutti! Levatemi di lipezzenti! Oddio, oddio! Fuggite, sciocchi! Wow! È molto arrabbiato. Fetta! Ropperi maroni! Ho quasi fatto! I civili sono al sicuro! Lì come va? E insomma... Non si arrende! Sono dietro di te! Abbattiamolo insieme! Non c'è tempo! C'era un treno! C'era un treno di parte da me! Fatta! No! Non sparare adesso che sto cercando di arrivare! Abbastanza veloce! Ok, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho! Venetevi forte, ragazzi! No, no, no! Attento! Ha delle... Contromisure! Contromisure! Santa puta Venom! Vabbè, in realtà è un alieno, insomma, lo sappiamo tutti! Peter! Stai correndo dei rischi inutili! Se non fosse per Miles oggi! Saresti bello che fregato! Forza, ragazzi! Aspetta! Siete in acqua con lui? Corri! Scappace il Nemez! Oh, marone gigantesco! E abnorme me... È vero che lui può diventare invisibile? Scappa, Miles! Scappa, ciccio! Nessuno ti piace, ma se fuggi! Oh, no! Era tutta la terraferma di nuovo? Che vuol fare? Miles! Accrappati presto! Olle! Eh, tira, 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 tira! Corri, corri, coso! Corri, coso! Miles, vai verso l'alto? Lo so, lo so! Ah! Sia più veloce! Volo più veloce! Corri! Corri, ciccio, corri! Sto a levami di più! Ma che cocchio! Non voglio venire divorato! Sì, ho avuto modo di andarselo! Wow! Quella era vicina! Aiuto! 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 Ombre! No, 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 no! Non so mancarlo! E che è! No, signore! Io mi leverei di lì! Non è nella cosa migliore da fare! Ah, in questo momento! Lo salvo io il tizio! Chi mi salva? A me, però! Posto! Tutti quanti al riparo! Che state facendo, ragazzi? Cerchiamo di fermare quell'elicottero! Non riesco ad avvicinarmi! Ma io sì! Porca la miseria! Cosa? È fatta! Fate! All'aiuto al tre! Ok! Oh, mi giù tutto! Aspetta! Caccia la miseria che riflessi che c'ha sta gente! Uno! Tre! Lo fate per davvero? Ma no! Vabbè, ha funzionato l'importante è quello! E non abbiamo ferito nessuno! Mio Dio! Peter, tutto bene? C'era chiaramente una grata lì! L'ho vista! Non ho fatto tutta di nulla! Oh mio Dio! Ok, salvi per miracolo! Ma non buttarlo così! Peter! Ma che stai combinando? Si è entrato nelle fogne e lo puoi inseguire, ciccio! Sembra una memoria RAM più che altro, eh! Forza, andiamo prima che si allontani! No! È mio! Cosa? Ne sei sicuro? Ha dei bei dentoni! Anche io! Oh, oh! Sta peggiorando parecchio! Miles? Seguilo! Non fa sempre così, vero? No, di solito non mi rigna in faccia! Non fa mai così! A maggior ragione ti dovresti preoccupare, Miles! Qual è la novità? Oh, la tuta! Non penso sia preoccupato per Harry! Oh mio Dio, che missione, figlioli! Porca la miseria! Mi sono ubercaccato che voi non c'avete idea! Il segnale di Connors viene dalle fogne sotto l'hubber west side! Vado! Dio, non ha paura di nulla, praticamente! Pranta! Ehi, trovo qualcosa da Connors! No, ma inseguirlo ora! Qualcosa non va? Niente! Certo! Niente, eh! Miles era fuori forma! L'avevamo quasi preso! Voleva soltanto rendersi utile! In certi casi è meglio sbrigarsela da soli! Ma la Mary Giovanna quant'è che non vede il compagno? Cioè, scusami, eh! Ti sarai accorta che non si riesce neanche a togliere la tuta? Preso! Abbiamo ottenuto... Wow! Armor Mark III! Addirittura! Eccola lì l'abilità! Incrementa la velocità di virata delle ali di ragnatela per migliorarne la manovrabilità! Ve lo dicevo io, mi mancava come poter... Oh, wow! Abbiamo quattro punti abilità da spendere! Me ne ero completamente dimenticato! Ok, mi concentrerai su Peter! La barra del picco si ricarica più velocemente! E ne avremo decisamente bisogno! Ricarica completamente le abilità quando usi la barra del picco al massimo! Ok! Accresce notevolmente la durata del picco! Va benissimo! Ok, spero di aver fatto la scelta giusta perché dobbiamo potenziare anche l'abilità standard! E sì, sì, lo so! No, abbiamo lasciato indietro il povero Miles! Mi dispiace tantissimo! E soprattutto anche le abilità congiunte! Ma per adesso mi sembra la cosa migliore! Anche perché se devo affrontare il dottor Connors in modalità lizard... Eh certo! E come no! Io vorrei anche sopravvivere! Non è che mi fa schifo la vita! Ok, direi di concentrarci ancora sulla missione principale! Oh, wow! Nel frattempo abbiamo riempito la barra della concentrazione! E lo sappiamo tutti che ne avremo... Porca miseria! Popo una cifra bisogno! Aspettate che vado a fare giusto una fotina veloce veloce! Vito che sono da queste parti! Che state facendo? Oh mio Dio! Ok! Questo è un attimino inquietante ma vabbè dettagli! Bene, bene! Non ne voglio sapere nulla! Pronto? Ok, wow! Grazie della spiegazione molto esausiva! Ah, è vero! Perché stiamo utilizzando il rilevatore! Giusto, giusto, giusto! Mi domando perché si sia rifugiato là sotto, Peter? Se vuoi sollevare il coso? Grazie, è molto gentile! Ok! A posto! Arrivederci! Ah, aspetta e spera! Non penso che lui gli ne freghi più di tanto della tuta Ok, senza amore Ma si sente più solo che altro molto probabilmente Non voleva essere ignorato È rimasto dentro un acquario Per tre anni praticamente La malattia sta progredendo a una velocità assurda Ma povero! No, è rimasto nel laboratorio Ok, Osborne non si sta neanche impicciando più di tanto Per quanto riguarda il figlio Faccio il predictore? Laboratorio sotterraneo della Oscorp Sicuramente c'era un laboratorio segreto Ok, vai L'importante è che non mi fatti i jumpscare off i gratuiti perché me è in cacchio Signor Lizard, salve! Wow! Ma sei scemo! È più intelligente del previsto in effetti Ok, dove possiamo andare? Andiamo di qui Sa che lo stiamo rintracciando in effetti Non penso che sappia del localizzatore che ha addosso Salve E guarda un po' Un laboratorio Oscorp nelle fogne Chi l'avrebbe mai detto? Non ho creato questo posto per Connors all'epoca Sarà tutto gestito con fondi neri Ma no, non lo farebbe mai Vecchio uccidoti Sono inutili ormai Norman è una personcina così brava e affidabile Assolutamente O sarà anche un vecchio laboratorio Ma le tecnologie che vedo sono tutte molto moderne Che fa? Salve Potrebbe essere il campione usato da Connors Per la formula originale Sì Non è normale che si muova ancora da sola, eh? Cosa stava lavorando Connors Per conto di Norman? Oh! Guarda, guarda Direi le informazioni sul caro buon vecchio simbionte Non sapevo che Connors studiasse lingue antiche Ok E questo è l'asseroide con cui è arrivato Venom Perché stava tracciando coordinate celesti? È abbastanza ovvio che l'abbiano ottenuto direttamente da lì Strano che Venom non abbia ancora iniziato a parlare con Con Peter per adesso Ma probabilmente perché deve possedere meglio il suo corpo La butto là Allora, abbiamo una strana fiala Non mi sovviene in effetti Beh, tecnicamente avrebbe potuto funzionare Se non fosse che l'altro organismo potrebbe prendere il controllo, Connors Piccolo dettaglio Sì, stava studiando un asteroide, vedete? Un attimo Questo è l'acceleratore di particelle della fondazione Connors l'ha usato per esaminare dei minerali Ciao piccolino, vieni da papino Peter è saggio toccarlo? Oh no No, la tuta reagisce Peter, Peter, Peter Stai per palpeggiare l'asteroide Eccolo lì Peter, guarda la reazione tuta Tutto spesso Dottore, yuhu Ok, vediamo cosa abbiamo qui Dai, è chiaramente una trappola, ciccio Ciccio E ovviamente dietro di te Ok, questa boss battle dovrò rifarla un sacco di volte Aia Ma che cocchio Ma che ti ho fatto io avanti Se fai il bravo ti regalo un tentacolo Ti serve un braccino extra, un tentacolo Ma non è quanto è grosso Pronto per l'esame motorio Magali, tutto è merda Ci siamo già passati, Connors Ok, ho capito il suo pattern di attacchi Mi farebbe comodo una mano Prendiamo di fermarlo con le ragnatele? Se sembra che non... Ok, funzionano, funzionano Sì, però se le cava in 1,8 secondi Ok, non esagerare con gli attacchi Ma non deve finire così Ma c'è un cicato Ma c'è un cicato il petente? E dai, e dai Sì, una calmata, ciccio Usami una barretta, usami una barretta Usami una barretta Ne hai usate due Perché ne hai usate due? Occhio E io l'ho parata E' super incassato con la vita Ok, vai, vai Ma me ne serve molto di più Dietro, ben dietro, ben dietro Precurarmi All'occorrenza Usa l'altro, usa l'altro Ah Che miseria Sono rimasto fregato Vai Ok, ok L'abbiamo suonato temporaneamente No, volevo fare l'altro attacco Ma vabbè, comunque Peter Ah Gliel'ho parato, gliel'ho parato Non so come gliel'ho parato Non so come Attacca, attacca, attacca Curami, curami, curami Ah Mettami, metti, metti Che cosa? C'è quello? Tira su, tira su Oh, l'abbiamo suonato Vai, vai, vai Legnalo, legnalo Legnalo con sui mani Abbiamo un potere, abbiamo un potere D'attivare Abbiamo un potere d'attivare Oh, ok Dai, si sta tutta Chio, 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 chio E non fa Perchè non lo so 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 Rimane bloccato proprio Perchè non lo so In secondo Fatta Ok Il problema è che ha tre barrette Della vita Da quello che ho visto Che fai, Ruti? Oh, si, Ruta La miseria Oh, no Ok Provai di bello, Connors Cocchio C'hai provato che tentone Uscio da dietro Posso aiutarti Non funziona più di tanto Drone, drone, drone Perfetto Vai, vai, vai Dov'è Spider-Boss? Quando serve? Cocchio Ah, ma ci ha ingigato di nuovo Ti odio Ok Perchè di nuovo Vai, 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 vai Legnalo, legnalo Usa tutto, usa tutto Ah, è vero Mi l'ho dimenticato di questo Ok, ok Ora gli faccio passare Veramente un brutto quarto d'ora Vai, legnalo male Legnalo male Però ci fai un po' più di danni In effetti Ti ho già salvato Sì Sì Così Vai, così Ok, la barretta è quasi finita La barretta è quasi finita Beh, mi ha dato un vantaggio Veramente devastante Tra l'olta Posso guarirti per sempre Peter, Peter Ti rompo figlio Fatti i cazzi tuoi Ok, sono riuscito anche a curarmi Ne fa tempo Vai Dove va? No, 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 no Cattivo, 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 cattivo Cattivo, scendi Scendi a giocare con lo zio Peter Allegnarlo Mentre là sopra Ah, bene Quello zio piggio Non ci sono problemi? Che ho fatto? Oh Eh, ma sei scemo Il cervello Ok, sono attaccarlo Lì, sono attaccarlo Vai, 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 vai Aspetta Ma l'avevo parato Ma è una truffa assurda Salire, salire Tira, 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 cosa Ottimo E anche la seconda barretta Quella si toccata Zio Ah, a posto Oh, che fatica la vita No, non si cavalcano i lizard Dopo le 18 No Stai Giù Ah No, no, no Non cadere di sotto Non cadere di sotto Cattivo, è troppo enorme Eh, chi è? Bravo Bloccalo Ho fatto un tentacolo Per recuperare la piala Ok, bravo Coltare la bocca No, l'urlo Ma porca la miseria Ci ha stunnato tantissimo Oh, cazza È un nemico troppo forte per adesso Oh, no, scordatelo Peter? No, il museo di dinosauri No, ti prego Qualcuno salvi i dinosauri Pensate ai bambini Giura Fittà Ecco Bastardi Non potrate passare da una parte No Oh, povero Ok, la Il destino si è salvato Meglio che nulla Non sono dell'umore Seria Per affrontare una lucertola gigante Che impazza per New York Cari miseria Ah, Godzilla Date una calmata Non posso permetterlo È super incazzato Peter Davvero Ucciderai qualcuno Ok, usiamola tutta anche in questo modo Perché non farò un decennio Sono ancora qui No, elicotteri Non adesso Ci mancava la polizia Questo causerà Non solo tanti danni Ma anche un sacco di feriti Ok, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Arrivo Parapapapapa Come su un sacco Da arrivare però, eh Che culo Che non c'è mai nessuno Quando arriviamo noi No, 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 no Cattivo Cattivo A me non mi ciancichi A me non mi viti a cena fuori prima Porca miseria Peter, se rompi la piala Ti rompo qualcos'altro È pasta Ok Ci penso io A gente Così non mi aiuti Ti è il controllo Per andargli addosso Casino Che casino Peter Prendi in giro, Connors In mezzo all'edificio Come l'aspettavo Vai, 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 vai Oh, oh Che fa? Lancia con... Mi lancia le auto Mi lancia le stracocche di auto Aspetta C'era qualcuno nell'auto? Era parcheggiata? È partito l'allarme Quindi due Parcheggiata Pezzi di erba Ecco, eccolo C'èlo, 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 c'èlo C'èlo, prendilo Dai che la volto buona Dai che la volto buona E piantagli la siringhina Oh Adesso dovete arrivare voi altri Oh, porca la miseria Ti maroni ragazzi Ma questi non hanno paura di niente Oh, porca Oh, miseria nera Ok Ce l'ho, ce l'ho È mio Stagli dietro Stagli dietro Peter Oh, l'ha fatto deragliare L'ha fatto deragliare, ho visto Ok Aspetta, non mi dire che va in galleria Non mi dico di inseguire Lucetto Io, aspetta, un attimo Scendere troppo velocemente a terra No Ci sono, ci sono, ci sono E basta Lanciarmi cose Hai roppo un po' i maroni di Zard Che puoi sta andando? Non lo sa nemmeno lui Ok Ti fermato Ah no, l'hanno fermato Mi correggo Ci siamo Fatta, fatta Se lo trasformi in umano è fatta Oh, 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 oh Scherzi Come la pelle è troppo dura Glielo devi iniettare in bocca quindi È l'unica parte morbida che può avere Stiamo scherzando E basta Casino E basta Capito dove devo dribblare? Dribbla, dribbla Wow Ciccio Oh, è staccata la jeep finalmente Dio quanto l'hanno fatto realistico Santo cielo Ragazzi È il momento Sbagliato Oh, oh Che ci fai tu qui? È così che gli vuol dare la caccia Salvalo Salvalo Prendilo il volo Prendilo il volo Che splendida creatura Abbatti l'elicottero di Kraven Ha più senso Il scuro l'ha preso praticamente No Connors Ti salvo io Veloce Veloce No, esplosiva Ma porca la miseria C'ha la pellaccia veramente dura Credo che vi ho perso leggermente i sensi Vai Peter Vai Peter Fatta Aspetta Aia Ma con una vertebrale ti serviva? Domando per un amico? E la siringhia ancora integra come? Ah, 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 ah Ok, grazie Sì, ma insomma Metti il stesso braccio Ma va Non è colpa mia Non se la prenderò lo zio Peter Oh, wow Molto rapido La rigenerazione è fichissima Già Molto utile Oh, no Ma è ancora più grande di prima adesso Eh, no Oh, non è finita Ok, terza faccia del combattimento Sente Fuserò le cattive Capuzuna Sì, molto più Sei un pezzente Sì, ora burlarmi in faccia Aia, aia Più aggressivo di prima Molto più aggressivo di prima Molto più aggressivo di prima Posso trovare un modo per rallentarlo a insufficienza No Passivo Ah Ok Questo combattimento lo dovrò rifare Aspetta La tua famiglia ti ha abbandonato Peter Ravanti Ma non ci bisogna di insultare Uditi i poteri contro di lui Ok, ok Perfetto 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 Ma dai Ma chiaramente l'avevo parata Ma chiaramente l'avevo parata In effetti Si ripida molto più velocamente di prima Aspetta Faratone E ricotta il taccone Ok, non ho ancora la barretta Quella Quella del potere Uber Faigo Pronta Aspetta Pari raghiere Pari raghiere Pari raghiere Sei l'unico che può aiutarlo Le motivazioni sono la genuine Anaglia Aspetta 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 Però mi poterlo fregare Non posso dargliela senza di te Ok, un terzo della barra della vita Ah Curati, curati, curati Curati, curati Aspetta, aspetta Vai, vai, vai Attacco Ok, qui qualche l'altro Non me ne frega Scusa di tutti Posso usare il potere? Ancora no Perché ancora no Ok, ok La bocca Se mi avvicini Posso iniettare l'antidoto nelle gengive Sì, era La suicidia che avevo avuto Io ciccio Però Ah Come l'ho parato Ah Sei un pezzente Sei un stramaledetissimo Pezzente Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ora sei mio Ora sei mio? No Mi frega comunque Però non mi ha fatto danni Mi stai sprecando attacchi Peter Mi stai sprecando tempo e attacchi Vai, vai, vai Non mi interessa Non mi interessa Uso tutto Uso tutto Forse tu si sarà più forte In questa modalità Sì È fatta No Ti ho scaricato la barretta Ti ho scaricato la barretta Però mi sono curato L'importante è che mi sono riuscito a curare Uh Ok Stai buono Stai buono che ero Timaroni Oh Alleluia Dottore Oddio Mi ha tirato un calcione Ma sei un pezzente Bravo Peter Finalmente ce l'ha fatta Sì Però Però lo dobbiamo salvare Credo che il buon dottore Sia in grado di nuotare così bene Senza un braccio Poretto E per fortuna Che ovviamente Ci avrà i pantaloni Non si sa come I pantaloni hanno resistito Anzi Si sono Riclonati su di lui Praticamente Poi un culo Non riesco a capirlo Non riesco a vedere Meglio così Non traumatizziamo i bambini a casa Dottore Buongiorno eh C'ha voglia di pesce? Si è mangiato tre quarti Della scorta di New York Dove l'hai presa? Harry Osborne Dice che l'hai creata tu La vedo leggermente terrorizzato Dottore Vieni con me Mi porterai lontano perché? Sta cedendo al lato scuro Comunque Peter Sempre di più eh Forse il dottore Ci può aiutare a fermarlo No Non faglielo toccare Poi mi si è eccita Il tentacolo Proprio come pensavo No Cattivo Il flashback? Aha Ed ecco qua il piccolo Adorabile Venom Ma perché i tentacoli Proprio? Ma che schifo Ah è così che ha perso il braccio Quindi Lasciatemi avvicinare Dottore? Non tocchi Ma è scemo Lo isoli prima Ma nessuno si avvicinerebbe In sto modo Oh 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 Un aiutino Un aiutino veloce Spara al tentacolo Spara al braccio Oh Dio mio Cos'è quella cosa? Peter Cos'ha la tua faccia? C'è qualcosa che non va? È il frammento di un meteorite Atterrato fuori città Diversi anni E c'era anche quello Ah Ok C'ho un alieno addosso O addosso Un alieno Lo chiamiamo simbiote Si Si Lega a livello subcellulare Al suo ospite Nel nostro caso Harry Osborn Ho capito che era l'unica soluzione Ma è follia Te l'ha dato lui? Non Non proprio Ero ferito E ti ha scelto Oddio Ancora più mostruoso di prima Quindi è più pericoloso Di quanto immaginassi Già Dobbiamo chiamare la Oscorp Dobbiamo distruggerlo Distruggere noi Oh no Parla già il plurale Questo è un problema Scappi dottore Quello era mio Scusi eh Io la denunzio Hai detto che mi ha scelto Doc Ma di me è uno spider Il migliore Eh Mi permetto di dissentire No Buono Peter Sei fortunato a essere vivo Per esigenze di trama Molto probabilmente Ti avrebbe ammazzato Ok Peter ha ceduto Completamente Al lato oscuro Di Venom Oh oh Siete dovunque Ho avvistato il bersaglio Lo seguo Che palle Non potete starmi dietro Di nessun universo Parallelo Non esiste Sono troppo veloce Ok Eh È successo di tutto gente È successo letteralmente Di tutto Medicina Trofeo guadagnato Sti cocchi Oh Aspetta C'è uno spider drone Da qualche parte Per davvero Per davvero Buono signori Direi che per questo Epico episodio Ci possiamo fermare qua Più andiamo avanti Più sto gioco Lo adoro Dovremmo essere più o meno A due terzi Della trama principale Completata Nei commenti ovviamente Fatemi sapere Cosa ne pensate Lasciate un bel mi piace Altrimenti vi faccio Muzzicare da Lizard E noi ci vedremo In un prossimo video Ciao 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 ciao